A me deve stare molto sereno, avendo fatto quel tipo di lavoro lì capisco i momenti, capisco le situazioni. È un giocatore che oltre ad aver concluso in porta mi sembra che abbia lavorato molto bene anche fuori, insomma si è dato da fare molto e quindi deve stare sereno. Averlo tenuto chiaramente in campo fino alla fine, avendo giocato in maniera così spregiudicata, è chiaramente perché non voglio perdere nessun giocatore proprio a livello mentale e quindi mi sembrava che fosse giusto fargli... Spero di sì, penso di sì, ma non è un problema, non si deve creare i problemi lui, i problemi quando tu te li crei troppo invece devi stare sereno, ma tutti devono stare sereni qua, quindi la possibilità di giocare c'è per tutti, ma poi ripeto, qui siamo il Bari, non è che siamo con tutto rispetto un'altra squadra, quindi devi assolutamente avere altri giocatori che sono competitivi come te, quindi è una lotta continua.